Ciao, oggi faremo un video bellissimo, salto indietro stoppato, ma lo facciamo ancora coppie? Sì, sì, Ale sei capace di fare il salto indietro della pedana? Sì, va bene, ok, le coppie teniamo le stesse? Sì, va bene, ok, i punti sempre uguali? Sì, ok. Chi vuole fare un giro di prova? Vi ricordate quanto eravate piccoline quando facevamo questo? Se andate a vedere indietro nei video, sì, c'erano la Emma e la Giada piccolissime, vero? La Faddy e la Letty non c'erano ancora, vero? L'Aerine è anche. Sì, è vero, piccolissima. Come l'Ale? Sì, togliamo le molle? È partito? No, ora parte. Ok. Uno stoppato. Un punto e mezzo. Faddy. Della serie non siamo competitive. Mezzo punto per Faddy. Sì, 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 sì. Un punto e mezzo, siete pari? Mezzo per Letty. Eh, mi sa di sì. Avete stoppato tutte e sei, ragazze. Siete pari? andiamo avanti così. Tanto prima o poi qualcuno sbaglia. Vai. E mezzo punto. stoppato mezzo punto stoppato mezzo punto siete ancora pari ragazzi mezzo punto attenzione terzo giro stoppato stoppato faddi mi dispiace dai già li porta a casa mezzo punto bene mezzo punto ragiale brava quarto stoppato no ragazzi siete di nuovo pari tre coppie tre coppie pari ah no no e no perché loro si è loro un giro in più stoppato 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 ma come è contenta la faddi stoppato stoppato nooo nooo peccato siamo al quinto giro Emma quinto giro grazie erica si mi sembrano contente ma quindi adesso loro due si fanno giusto? sono pari? non volevamo stracare stiamo al quinto giro nooo 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 forza vai maianicolati bravissima quindi sono pari loro due? vince questa sfida Emma ed Erika pari pari in merito le altre due coppie speriamo che questo video vi sia piaciuto se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella così vedrete tutti i nostri nuovi video ciao